Chi sei e cosa fai? Sono Maria Chiara e sono una sviluppatrice software di QT e C++. Nomi con il quale ti chiamano De Veleriani? MCC, MC o Maria Chiara. Maria Chiara in tre parole? Monopattino, casinista, cibo. Cosa ti piace del tuo ruolo? La dinamicità. Il tuo talento nascosto? Mi piace dipingere, la fotografia, suonare, insomma, varie cose. Ho una vena artistica molto inespressa. Molto. Vacanza in hotel o in campeggio? Per le avventure campeggio, però spesso sono pigra, quindi forse scegliere più facilmente l'hotel. Cosa ami di più dell'essere una De Veleriana? Che è un ambiente giovane e moderno. La celebrità che ti piacerebbe incontrare? Alex Turner, il cantante degli Arctic Monkeys. Una parola per descrivere il tuo team? Competenza, però anche un'altra disponibilità. Una delle tue più grandi forze? Bicipiti. La canzone che non smetteresti mai di cantare? Do I wanna know the Arctic Monkeys? Ce la canticchi? Do I wanna know if this feeling flows both ways, set to see you go? Basta. Come vedi il tuo futuro in Develer? Spero che il mio futuro continui ad essere come è stato fino adesso e quindi di continuare a avere questa dinamicità nel lavoro e di continuare a trovarmi bene nei vari rapporti. Qualcosa di nuovo che ti piacerebbe provare? Mi piacerebbe provare a suonare la batteria. Oltre a programmare, in quale altro modo ti diverti in Develer? Nella fase pre-Covid mi piaceva molto giocare a ping pong con scarsi risultati. Quando hai scelto di occuparti di programmazione? Quando ho scelto l'indirizzo dell'istituto tecnico, ho scelto informatica, diciamo non proprio consapevolmente, però poi andando avanti mi è piaciuta l'informatica e quindi ho proseguito sia con gli studi sia col lavoro. Il concerto che porti nel cuore? Il concerto dei Radiohead alle Cascine a Firenze. Il segreto del tuo successo? Imparare giorno giorno a interagire con il team e imparare a relazionarsi e a capire, insomma. Un consiglio per qualcuno che ha appena iniziato a programmare? Uno su mille ce la fa! No, non è realmente così, ce la possono fare tante persone. Chi ha passione e perseveranza tanta. Completo la frase, Develer è? Aperitivi, a bestia. Grazie. Grazie. Grazie.